Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video per il terzo episodio della serie Miximax Trance dove vedremo un altro molto fortissimo Miximax che è tra i due fratelli Blade, Victor e Vladimir questo è un Miximax tra i più potenti veramente allora andiamo a scegliere Victor, parlando da Wonderbot e poi cerchiamo Vladimir infatti vediamo qua che fa ideale qui ci scegliamo le tecniche, infatti vediamo che ci sono vabbè, scivolata e scintillante a Vladimir gliel'ho data io e tornando di fuoco ti dia la famosa tecnica in più che hanno i Miximax ideali qui vediamo invece che Vladimir è al livello 75 e Victor è al 99 allora scivolata scintillante io gli darei scivolata scintillante e tornando di fuoco tripla direzione TD selezioniamo ok selezioniamo ok e vediamo il Miximax eccolo qua vediamo che è molto simile se non uguale a quello che nella storia si fa tra Vladimir e la storia si fa tra Vladimir e Victor e il contrario vediamo con l'armatura di Lancelot con l'armatura di Pendragon normale e con il Miximax vediamo infatti anche come aumentano le statistiche ecco qua il tiro vediamole bene da qua il tiro passa da 171 a 331 ed è molto poi vediamo anche la resistenza che aumenta di tanto passa a 204 la tecnica a 190 e con questo Miximax veramente si possono fare tante cose vediamo anche i PT i PE diventano 297 quasi 300 incredibile e i PT 211 anche qui è tanto proviamo subito il Miximax in una sfida e vediamo in azione il nostro nuovo Miximax eccolo qua vediamo diamolo in azione scivolata scintillante la tecnica che da Vladimir abbiamo passato a Victor anche un colpo critico abbiamo avuto ora possiamo anche scegliere quale spirito dei due evocare se Pendragon è Lancelot io direi di evocare Pendragon che è più forte facciamo un bel gol con la nuova tecnica che impara Vladimir potenza 200 e danno stordente 30 che sarebbe il tornado di fuoco TD vediamolo abbiamo visto questa grande potenza questo Miximax veramente potente allora direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao a tutti